segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te staccati ma paolo miri fu protagonista di un altro passaggio forte che abbiamo visto in apertura nel servizio incelata cioè l'ordine a comparire mentre berlusconi presiede quella conferenza dell'onu a napoli da parte dei magistrati di milano viene in realtà sparata come apertura a sorpresa di cui si viene a sapere nella prima mattinata del giorno stesso dal corriere della sera chiede innanzitutto una cosa a paolo miri ma quante volte è stato interrogato per quella vicenda dalla magistratura mai cioè fu aperta un'inchiesta su quella fuga di notizie e i magistrati che indagavano su quella fuga di notizie non ritennero mai di chiamarmi di chiedere alcun che io anche un'ipotesi poi anni dopo in un processo per un libro per una storia così feci una deposizione in cui dissi quello che avevo da dire su quella fuga di notizie ma non direttamente per quell'inchiesta no no quel chiesa mai ma che non avevano bisogno di interrogarti perché sapevano chi ti aveva dato la notizia l'unica spiegazione era stato detto in modo molto brutale così ma non volevano sentire probabilmente la mia versione nel senso che è veramente strano che non mi abbiano chiesto anche profumo mi hanno spiegato i miei rifiuto di rispondere sì però potevo pure voler rispondere io avrei risposto molto volentieri perché ci fu una cosa che mi diede molto fastidio è che misero in giro la voce che siccome berlusconi la sera aveva ricevuto a roma gli avevano letto a napoli quell'atto fossero stati berlusconi o cioè in qualche modo erano loro interessati a farlo risapere perché mancava questa cosa mi fece andare su tutte le furie ovviamente io sapevo com'era andata la cosa non lo dirò fino in fondo qui ma dirò solo che avevo saputo di quell'atto e conosciuto i termini di quell'atto alle due del pomeriggio tant'è che avevo chiamato uno dei giornalisti da roma e quindi avendolo conosciuto alle due del pomeriggio l'unico posto da cui poteva essermi arrivato era palazzo di giustizia di milano e questo io avrei detto sicuramente per una questione di orari dicendo guardate non solo l'ho saputo a quell'ora ma a quell'ora ho riunito i miei giornalisti e tutti sanno che l'abbiamo saputo a quell'ora e quindi a quell'ora che l'hai saputo prima di berlusconi tanto per capirci otto ore prima no otto ore prima che arrivassero a roma i carabinieri e da lì a napoli quindi otto ore e beh insomma era una cosa che questa cosa questa cosa passò in cavalleria è la prima volta come sai che ne parliamo pubblicamente e a me rimase l'idea visto che ho fatto un torto grande a berlusconi ne nacque una polemica che è durata tanti anni anche se i toni fra me e berlusconi sono sempre rimasti educati e cortesi però questa mancata indagine mi ha sempre insospettito no che strana cosa che sembrava perché io anche vivevo un po nella retorica di manipolite i giudici magistrati che era purifica se ci sembrava purificatrice e oltretutto andava aveva nessuno di loro non solo i giudici credo fossero quelli di brescia i magistrati di brescia che indagavano ma non solo quelli del pool di manipolite mi avvicinò avevamo con tutti dei rapporti più o meno così mi avvicinò per chiedere senti ma come un magistrato ti ha mai parlato ma poi comando a finire come era nata secondo te com'era andata mai possibile anche per sapere loro se era stato un loro collega visto che veniva da palazzo di giustizia da qualcuno veniva quella cosa mi insinuò per la prima volta un dubbio andava avanti in manipolite da due anni dal 1992 stiamo alla fine del 1994 e mi è rimasto un po qua adesso lo dico nel giorno della sua morte di aver fatto una cosa che non è tutta strumento cieco d'occhiuta rapina cioè come sei sei stato ti sei sentito utilizzato no però no perché poi dovrei dirlo anche dei miei giornalisti no non ci siamo sentiti utilizzati ma un conto che non torna qualcosa poi ho letto un bellissimo libro che ha scritto Goffredo Buccini il giornalista che poi firmò quella articolo che firmò insieme a un altro Gianluca Defeo quell'articolo e anche in quel libro mi è sembrato di leggere tra le righe dei segni di sofferenza insomma l'abbiamo fatto abbiamo la coscienza a posto però qualcosa non andava prima o poi questo qualcosa io lo scoprirò dopo la pubblicità andiamo